ciao a tutti ragazzi allora oggi andiamo a vedere un attimo due prodotti diciamo così due accessori per il nostro analog pocket vi ho messo questo per creare un po più contrasto con quello che vi farò vedere che così almeno riuscite a rendervi un po più conto dei colori allora innanzitutto vediamo questa questa è una custodia per il nostro analog pocket non è la custodia originale è una custodia creata con una stampa in 3d e in questo caso è stata creata da un mio amico fabrizio il quale ha usato due diversi tipi di pl a allora ci ha usato il pl a esterno quello rigido e poi ho usato invece internamente e vedete appunto la console e i vari vani con il t più quello morbido di conseguenza lo strato interno che vedrete è gommoso è fatto apposta per evitare che il nostro analog pocket vada a deteriorarsi a rovinarsi come vedete ha tutto questo pattern morbido fatto apposta per proteggere il nostro la nostra console i colori sono molto belli ispirati secondo me molto a evangelion e la chiusura è magnetica come vedete con due magneti posti ai lati superiori superiore inferiore e altri due magneti da questa parte di conseguenza la chiusura è molto molto solida e per dirlo bisognerà fare molta resistenza molto molto difficile che la console si apre accidentalmente così superiormente quindi la parte interna superiore trovate un'altra parte sagomata perfettamente per i tasti dell'analog pocket quindi appunto qua abbiamo i tasti con la croce direzionale che andrà a proteggere il nostro schermo sempre fatta con lo stesso materiale di più morbido e quindi non andrà a intaccare rovinare la nostra console mio consiglio personale sempre comunque quello di andare ad aggiungere al alla console un vetro protettivo all'interno del vano trovate altre del vano della console trovate altre due alloggiamenti che come vi ho fatto vedere prima come avete visto servono per posizionare le nostre cartucce del game boy il game boy classico appunto e potete posizionarla qui mentre invece le cartucce per il game boy advance non andranno ovviamente posizionate così ma come vedete sono state studiate appositamente queste queste nicchie per far sì che si posizionino perfettamente all'interno della console quindi della scatola e quindi non si vadano a spostare così facendo voi potrete utilizzare quattro alloggiamenti per giochi advance mentre invece due alloggiamenti per giochi dmg game boy classico o game boy color e video è molto molto comoda la cosa perché appunto poter portare in giro le nostre cartucce tutte quante posizionate all'interno della stessa confezione e insieme alla console senza il rischio che questa si danneggi è molto molto pratico nel momento in cui andiamo a mettere all'interno della custodia le nostre varie cartucine e la nostra console possiamo andare a chiudere la console e i movimenti saranno davvero davvero minimi all'interno della console all'interno della scatola perché infatti se andate a vedere gli alloggiamenti sono studiati apposta per far sì che questi non si spostino quel rumore che avete sentito è dato da questo questo è un flash no però come vedete rispetto a una cassettina classica deficita per la mancanza del di questo slot laterale quindi di questi di questi di queste alette no questo le impedisce di rimanere salda e ferma nel momento in cui andiamo a togliere questo e quindi se andiamo a mettere solamente giochi advance e giochi in boy la console non si muove i giochi non si muovono e quindi voi potete andare tranquillamente a portarvi in giro la console senza il rischio che questa si danneggi a altro discorso ovviamente è presente anche lo slot posteriore di conseguenza voi potete tranquillamente aggiungere una cassettina posteriormente quindi c'è un gioco in più o come appunto nel caso della della ex flash che si muove mettere l'ex flash al posto dell'alloggiamento posteriore e avere il tutto quanto saldo all'interno della vostra console della vostra custodia questa era una delle cose che volevo farvi vedere l'altra cosa molto bella che volevo farvi vedere l'avete già in intervista ed è lo sticker un nuovo sticker del di sakura elettromodding che mi ha mandato questa versione dello sticker di legend of zelda che è una versione che non ha ancora messo in commercio in quanto è stata semplicemente un test di prova per vedere sulla console verde di appositamente creata una limited edition creata da analog poteva andare bene questo tipo di di sticker con questa colorazione gli ho chiesto se si poteva fare questa prova lui mi ha detto di sì mi ha mandato questa versione che poi successivamente andrà a commercializzare mi ha detto e come vedete si tratta di una di uno sticker plastificato laminato in oro e vedete i riflessi sono pazzeschi veramente pazzeschi io l'adoro abbinata con gli sticker di quelli del sempre di di sakura elettromodding per proteggere lo slot delle cartucce e poi quello per risaltare il logo dell'analog posteriore abbiamo veramente una console fantastica la console in sé è sempre stata bellissima secondo me e la versione forse nera liscia è più bella ma la versione verde classica senza modifiche è bella ma secondo me il monocromo totale perdeva un po di conseguenza aggiungerci uno sticker frontalmente va molto a migliorare l'effetto estetico della console secondo me è così la console perfetta è bellissima e come vedete appunto i riflessi della lamina dorata sono fantastici protegge quello che è la scocca della console che visto il costo della console se si può proteggere è meglio e quindi insomma non andiamo a intaccare le plastiche è facile da rimuovere se me lo volevo se me lo chiedete perché appunto sono già andato a vedere se si poteva rimuovere quella precedente che avete visto nell'altro video e non ho avuto problemi non c'è la plastica che si era appiccicata di conseguenza prendere rimuovere lo sticker e riposizionare non nuovo non è un problema tra l'altro altro discorso è che lo sticker rimuovi rimuovendo lo si può anche poi andare ad applicare se fate attenzione andiamo un attimo a vedere la console accesa con il nuovo sticker e solo per farvi un po vedere l'effetto scenico andiamo su the legend of zelda eccolo qua e ruba entriamo nel gioco vediamo un attimo come sia dice ecco bisogna andare avanti volevo solo uscire con il verde del gioco per farvi vedere un attimo eccolo qua inutile dirvi che la console così secondo me è meravigliosa lo sticker verde si adatta benissimo anche alle console nere perché appunto dovete immaginare semplicemente la cornice tutta nera qui e tasti neri per me è perfetto comunque ma ad ogni modo qualora non vi dovesse piacere l'effetto dello sticker verde esiste la variante nera e la variante bianca quella per appunto i giochi cioè per la console in modo classico quindi appunto la console classica versione bianca la versione nera e quindi si adatta perfettamente a tutti i tipi di console che avete ovviamente non sarà perfetta per le console trasparenti perché sulla console trasparente mettere uno sticker va a togliere l'effetto scenico di vedere sotto tutto quanto ed è la cosa bella e sulle console invece di altri colori probabilmente andrebbe a stonare perché metterle su una console arancione uno sticker verde forse non è il massimo però potrebbero starci gli sticker neri o bianchi a seconda di quello che andate volete scegliere niente cosa dirvi secondo me questi sono due acquisti appunto necessari per proteggere le nostre console la nostra console appunto la nostra console l'analog dato appunto che ha un costo non indifferente e quindi sarebbe bene andare a proteggerla il più possibile custodia bella rigida utile e sticker esteticamente bello ma soprattutto che va a proteggere anche la parte esterna della scocca ragazzi niente con questo questo era un piccolo video che appunto voleva un po' elencarvi il adesso questo si è staccato come al solito voleva un po' elencarvi le qualità di queste di questi due prodotti io vi metterò i link ovviamente per l'acquisto di tutti e due se dovessi riuscire questo di sicuro adesso devo vedere un attimo se mi fa avere il link però comunque vi metto il link dell'acquisto della versione nera se vi volesse se vi dovesse piacere la versione verde andate a chiedere direttamente al produttore quindi appunto a sacco da retro modding se vi può fare la versione verde così come era stata progettata e ideata per me basta con questo ho finito ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace attivate la campanella per poter appunto seguire tutti gli aggiornamenti sui video che andrò a fare e noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti e statevi bene